hai visto ho ripreso a fare i video quanto è facile è difficilissimo come difficilissimo è difficile ma perché in che senso perché la determinazione di fare questa cosa in maniera costante sistematica senza farsi troppe seghe mentali è fatto giusto è perfetto lo è sbagliato lo devo rifare ma con l'intento semplicemente di condividere quello che senti che pensi è difficile è difficilissimo è difficilissimo perché siamo viziati ce la cantiamo in tutte le maniere ma come sono io che faccio i video ma chi l'ha detto che devo fare tutti i giorni oggi non lo faccio se non lo fai tutti i giorni o non lo fai in maniera sistematica periodica per cui le persone possono contare su di te è inutile che lo fai perché ci sono quelli bravi quelle brave che sono lì tutti i giorni a fare il loro video a condividere la loro piccola storia il loro consiglio le loro indicazioni istruzioni su come diventare più bravi in qualcosa e quindi se tu ci sei ogni tanto sì ogni tanto no perché dovrebbero poi venire a seguire te quindi se ti dovessi dare un consiglio che sia uno riguardo a fare video è guarda hai perfettamente ragione ti viene una paura uno sfrigolio una serie di timori oddio oddio ma che dico che faccio ma il mio consiglio è spingi rec spingi rec spingi rec spingi rec spingi rec spingi rec 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 registra il bottone rosso rec spingi rec adesso fai un video fregatene sbattitene che non possa venire bene perché se non fai mai il primo non puoi mai sbagliare non puoi imparare niente non è facile e la maniera per renderlo più facile è di iniziare a farlo e di rifarlo e di rifarlo ancora quindi il mio unico consiglio è è inutile che aspetti perché il momento perfetto non verrà mai mai verrà il momento ideale che c'hai la telecamera perché adesso quella che c'ho non va bene tutte stronzate va benissimo lo smartphone che hai ora quello che importa è hai da dire qualcosa hai le palle il coraggio la voglia la determinazione di dire sì io adesso lo voglio fare perché ho qualcosa da dire e questa opportunità la voglio cogliere è al 100% domandatelo verifica è difficile ma penso che valga la pena provare ok